La Torre degli Elementi è sotto attacco! Gormiti! Fuoco! Roccia! Ghiaccio! Vento! Dipendi la Torre dagli attacchi dei Darkans! Scolpiscili con il potere degli elementi! Usa le trappole e i trabocchetti! Ti allena i tuoi gormiti! La Torre prende vita come nel cartone! Sprocca i contenuti speciali dell'app con il Digital Code! Sprocca i contenuti speciali dell'app!